Vittoria Buon pomeriggio, buon lunedì da tutta la redazione di Free News. In apertura di questa prima edizione del nostro telegiornale La Cronaca, è stato arrestato il rapinatore che sabato ha rubato la borsa ad una donna di Vittoria. All'uscita da un supermercato della cittadina, si tratta di un vittoriese con problemi di tossicodipendenza ed è stato proprio il bisogno di soldi per comprare la droga ad avere spinto l'uomo a compiere il reato. Vediamo. Si è conclusa nella notte con un arresto la brutta vicenda capitata sabato a Vittoria ad una donna di mezza età. Le indagini di polizia hanno portato all'identificazione del rapinatore che all'uscita da un supermercato aveva rubato la borsa alla signora. Si tratta di Giovanni Salerno Solarino, vittoriese 34enne con un passato di condanne per stupefacenti, armi ed evasione e presidenti penali per reati contro il patrimonio. Fondamentali sono state le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale di Via Generale Cascino e la descrizione da parte della vittima. Gli agenti della polizia giudiziaria lo hanno rintracciato mentre camminava in miei cardona verso Scoglitti, portava ancora gli stessi vestiti. Alla vista delle forze dell'ordine l'uomo ha tentato di scappare ma dopo qualche metro è stato raggiunto ed immobilizzato. Al commissariato il vittoriese ha poi confessato il gesto spiegando che aveva assalito la signora per bisogno di denaro a causa del suo stato di tossicodipendenza. Per questo motivo sabato aveva aperto la portiera dell'auto su cui era appena salita la vittima e con un oggetto appuntito al collo le aveva intimato di dargli la borsa minacciandola di scannarla. Solarino non ha fissa dimora, dal 2008 al maggio 2011 era stato detenuto ad Enna per scontare una pena infitta agli per rapina. Nel 2011 era stato poi ricoverato in una comunità terapeutica per il recupero dalla tossicodipendenza che da qualche giorno aveva lasciato. Considerato il pericolo di fuga già manifestato, il vittoriese è stato condotto al carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. In merito agli arresti di Rosario Favitta e Rosario Romano effettuati dai carabinieri di scoglitti venerdì sera, sorpresi mentre trasportavano mille chili di materiale ferroso, il GIP del Tribunale di Ragusa non ha convalidato l'arresto così come richiesto dal pubblico ministero perché non ha ravvisato la gravità del fatto. Il giudice ha quindi rimesso i libertà agli arrestati, sottoponendoli comunque all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stato arrestato ad Acate un cittadino rumeno destinatario di un mandato d'arresto europeo. Arrestato dai carabinieri di Acate un rumeno 27enne già noto alle forze dell'ordine, il giovane è stato tratto in arresto ieri in ottemperanza al mandato d'arresto europeo emesso da un tribunale rumeno. A seguito della condanna, tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di furto aggravato e guida senza patente commessi in Romania. Dopo le formalità di rito, il rumeno è stato portato alla casa circondareale di Ragusa a disposizione della competente autorità giudiziaria. Diverse richieste di intervento sono arrivate vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa in tutta la giornata di sabato. Per rispondere alle richieste che sono arrivate da tutta la provincia è stato addirittura necessario l'intervento delle squadre di protezione civile comunali e del dipartimento di protezione civile provinciale. Il comune di Vittoria ha allertato il gruppo comunale, mentre il dipartimento ha disposto l'impiego di due associazioni. In totale sono stati effettuati 32 interventi, tutti per incendi di sterpaglie, che in alcuni casi minacciavano abitazioni, in altri la viabilità a causa del fumo. Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale Venti-Santa Croce-Comiso intorno alle 3 di notte un 21enne di Comiso ha perso il controllo della sua Citroen andando a sbattere contro i cordoli che delimitano la carreggiata. Per il giovane, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze. Ci spostiamo a Vittoria. In città continuano le prese di posizione da parte dell'opposizione per quanto riguarda il rilancio dell'economia e la gestione delle società partecipate. Ma non mancano invece gli spettacoli. Il riferimento è al Jazz Festival che ha preso il via sabato. Vediamo. A Vittoria è situazione immobile per il rilancio dell'economia e del turismo. L'opposizione denuncia l'immobilismo da parte dell'amministrazione comunale per quel che riguarda proprio gli aspetti come le aziende partecipate, i servizi turistici e il rilancio della frazione di Scoglitti. Per Grande Sud, infatti, le partecipate sono vere e proprie scatole vuote e con un bilancio assolutamente insoddisfacente. Per non parlare della Sogevi che finora ha prodotto il nulla. Ed è ancora la questione mercato ortofrutticolo, dove la Vittoria Mercati SRL è ancora ferma e l'attivazione del centro commerciale naturale e la rivitalizzazione di Via Caurre. Tutte false promesse scrivono gli esponenti di Grande Sud che evidenziano un vecchio modo di fare politica. A proposito del rilancio turistico, invece, il PDL aveva lanciato la proposta di istituire uno sportello turistico durante la manifestazione del Gets Festival per fare conoscere ai visitatori anche Scoglitti. Altra proposta lanciata sempre dal partito di opposizione era quella di sfruttare lo sportello della Mercuriale Agricola di Piazza Cavour a Scoglitti. Insomma, tanti aspetti legati allo sviluppo economico e turistico della città Ipparina e della frazione che a giudizio dell'opposizione non vengono giustamente attenzionati, mentre si preferisce invece impegnare decine e decine di migliaia di euro per una singola manifestazione quale il Gets Festival, sicuramente di notevole spezzore artistico-culturale che con un modestissimo ticket di un euro potrebbe anche mantenersi in vita autonomamente. Infatti, per il rilancio di un'intera economia, non sono sufficienti spettacoli e feste ma bisogna creare le condizioni e le occasioni di sviluppo per chi vuole continuare ad investire nel nostro territorio. Interventi di disinfestazione a Vittoria e Scoglitti per garantire l'igiene pubblica sul territorio comunale. Il trattamento operato dall'AMIU partirà da Vittoria domani 12 giugno e durerà 4 giorni consecutivi. Successivamente, il 18 e il 19 giugno, toccherà a Scoglitti sempre dalle ore 24 alle 5 del mattino. Domani si parte da Via Como, angolo via Roma, parte nord della città, verso la stazione ferroviaria per chiudere, abbracciando a ventaglio gran parte del quartiere Forcone. Il 13 si inizia da via Roma, angolo via Bixio, parte sud della città, quindi dal centro storico fino a chiudere oltre la zona Emaia. Il 14 si parte sempre dall'angolo di via Roma con via Bixio, procedendo sempre a ventaglio verso est, in direzione ospedale Oltre. Il 15, infine, si procederà a partire dall'angolo tra via Como e via Roma, direzione ovest fino a Fanello, per ricongiungersi con lo stradale per Scoglitti. È ormai tempo d'estate. Il caldo, il sole e le belle giornate ci ricordano che poche settimane mancano alle ferie di agosto, anche se in molti approfittano del fine settimana per godere di qualche ora di relax. Tra questi, probabilmente, il consigliere di Ragusa Grande di Nuovo, Giampiero d'Aragona, che oggi ha presentato le sue proposte in vista della stagione estiva. Vediamo. Tempo di spiaggia, tempo di mare. L'estate è ormai arrivata e molti approfittano di ogni ora di libertà per godersi il sole e il mare. Per non parlare poi del fine settimana, sabato e domenica le spiege blairano gremite di gente, tutti in costume, certo sono ancora lontani i tempi della tintarella d'agosto, a godere di una giornata di relax con amici e parenti. Attenzione però a non esagerare, il caldo e soprattutto l'eccessivo sole rischiano di essere pericolosi, insomma è dietro l'angolo il pericolo di un'insolazione. Lo sa bene il consigliere comunale di Ragusa Grande di Nuovo, Giampiero d'Aragona, che forse proprio a causa di un colpo di sole stamane ha pensato di presentare le sue proposte in vista dell'approssimarsi della stagione estiva. Come spiegare, se non come frutto di un'insolazione, le idee avanzate da d'Aragona, destatosi dal torpore in cui era caduto, o meglio, nel quale era sempre stato? E invece, forse dopo aver trascorso una domenica a Marina di Ragusa ed essersi accorto di quali erano le mancanze nella frazione balneare, ha deciso di metterle nero su bianco, posa cenere e rastragliere per biciclette. Ecco che ci voleva accorgimenti semplici, lo dice lo stesso d'Aragona, ma necessari. Ma il consigliere si spinge oltre, indicando anche le distanze da rispettare che a suo parere garantirebbero le spiagge più pulite, ben 20 metri tra un posa cenere e l'altro, lungo il tratto di spiaggia che va dalla Mancina fino al depuratore. Manca insomma solamente una valutazione della spesa che l'amministrazione dovrebbe fare per realizzare simili proposte per un esame da lode. Più carente invece il progetto rastrelliere, non si sa dove e quante, ma a noi va bene lo stesso, apprezziamo lo sforzo di chi si erge, parte di quel folto gruppo di persone, parole sue, che dovrebbero recepire in maniera più sensibile le esigenze del territorio e dei nostri cittadini. Certo, se queste sono le idee di chi dovrebbe risolvere i problemi di un territorio che ne ha di importanti e certamente più seri, siamo proprio messi bene, diremmo sarcasticamente. E chissà allora cosa aspettarci dal restante gruppo? Sia chiaro ai consiglieri che il fatto di occupare un seggio dalla parte giusta, se così può essere definita la maggioranza in un'amministrazione, non li porta di diritto ad avere quella sensibilità tale da capire le esigenze del territorio. Sappiamo fin troppo bene che un giovane che frequenta i locali giusti, con tante amicizie, fa presto a raccogliere i voti che gli servono per essere eletto. Il problema reale non è essere eletti, ma meritarselo quel posto. E queste ideuzze, peraltro non è anche una novità, sarebbe meglio per sé e per gli altri, quel territorio che dovrebbe essere capito in maniera più sensibile, che restassero nella testa di chi le manifesta, perché se si pensa che con queste proposte si possano soddisfare le esigenze della gente, si è proprio fuori strada per il bene della città e della cittadinanza. Forse sarebbe stato meglio tornare anche oggi in spiaggia e continuare ad abbronzarsi. Walter Cavanna è il nuovo direttore del mercato ortofrutticolo di Vittoria. La nomine è avvenuta ufficialmente questa mattina. Cavanna opererà a fianco del comandante della Polizia Municipale Cosimo Costa. Il nuovo direttore è attualmente responsabile dell'URP del Comune di Vittoria. E ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.